Allora, siamo in diretta, aspettiamo che si connette qualcuno aspettiamo qualche secondo ok, comincia a esserci qualcuno allora, buonasera a tutti ho visto dare diversi pareri, diverse esortazioni a proposito di questa situazione di questa vicenda e volevo soffermarmi su alcune cose cioè, più che l'attacco che è stato fatto ciò che mi dà fastidio mi sta irritando proprio parecchio nel mio cuore, nello spirito, nella carne chiamatelo come vi pare sono i commenti di alcuni cosiddetti credenti cioè, in questa situazione, al posto di fare muro di fare scudo tra di noi di essere ancora più uniti al di là delle differenze dottrinali al di là dei problemi noi attacchiamo questa chiesa, attacchiamo questo pastore che per me è stato perfetto ora uno può mettere i cavigli poteva usare un'espressione più di un'altra ma ha parlato benissimo qualcuno può giudicare il fatto che forse era meglio evitare di andare a presentarsi ma sono tutti commenti da chi si definisce, da chi vuole fare il genio da tastiera vuole fare il leone da tastiera dietro la tastiera possiamo dire quello che ci pare perché chi c'era dall'altra parte dei riflettori dall'altra parte del telecamere non eri tu non ero io non eravamo noi e quindi ci permettiamo di fare giudizi facili giudizi facili ora dovreste rendervi conto di quello che è successo da un punto di vista spirituale questa chiesa, questo pastore si è trovata vittima di un qualcosa io pregavo perché questa cosa mi ha addolorato perché noi adesso dobbiamo prendere provvedimenti perché chi è che ci protegge da queste situazioni? noi dobbiamo riflettere perché i ministri, le chiese fanno tanto si danno tanto ce la mettono tutta e si consumano, si spendono per amore delle anime poi un'anima non gli piace un giorno quello che gli dici non gli piace un giorno come gli poni le cose se ne esce ferita, rattristata e cosa fa in giro? cosa andrà a fare in giro? andrà a sparlare e tutto il resto adesso si sparra pure con i media cioè questo è gravissimo adesso usiamo i media per condannare chi magari ci ha fatto del bene e la cosa brutta è che era praticamente incondannabile questo pastore perché vi voglio dire una cosa in tutta franchezza noi non siamo nessuno per giudicare che lui abbia accettato questo regalo non ha forzato nessuno a farglielo è stato fatto in modo consensiente e spontaneo dal cuore ma chi sei tu per dire che era un regalo troppo grosso da accettare ma se vogliono regalare a qualcuno un palazzo ma lui sarà libero di accettarlo oppure no? sarà libero di ricevere una benedizione? basta, tutti gli altri commenti sono inutili inutili ma al di là di questo vi siete resi conto che la cosa orribile è stata proprio che vi ricordate se voi leggete i Vangeli cosa hanno fatto per accusare Gesù? hanno intentato dei falsi testimoni per condannarlo e io ho visto pari pari questa scena falsi testimoni sono stati presi per attaccarlo e molti dicono che non doveva comparire tutto ma lui è stato attaccato e lui ha dato la sua integrità la sua disposizione a dare spiegazioni a dare chiarezza anche se non aveva nulla di cui giustificarsi lui doveva dare spiegazioni che è diverso ma al di là di questo scrivi e farisei non sono da definire i credenti ma sono chi voleva andare contro Cristo e contro il piano di Dio ha assoldato incaricato falsi accusatori falsi testimoni per farlo condannare e questo è quello che è successo e quando io poi leggo commenti di persone che definirei babbei perché è il termine più pulito che mi viene degli emeriti deficienti inteso che hanno delle mancanze che accusano ecco finalmente i servi di mammona smascherati dai media speriamo che i media continuino così io ho detto mamma mia cioè addirittura noi speriamo che altri fratelli vengano condannati condannati oh apocalisse 12 10 mi dice che l'accusatore dei nostri fagli è caduto colui che li accusava giorno e notte davanti a Dio ogni volta che noi ci facciamo apriamo la nostra bocca per proclamare accuse noi da che parte stiamo forse dalla parte degli accusatori forse dalla parte di coloro che veramente vogliono condannarci Romani 8 dice oh non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù noi non dobbiamo condannare neanche dobbiamo permetterci di pregare che i media continuano questo lavoro questo è abberrante è scioccante leggere questi commenti per me è da eliminare subito dalle amicizie cioè da da intervenire immediatamente è allucinante vedere queste situazioni addirittura dovremmo proteggere sostenere in preghiera questo fratello no è stato disavveduto non doveva fare questo e perché ha detto una cosa non dobbiamo cercare i cavigli dottrinali noi dobbiamo comprendere che i media si stanno alzando per screditare la chiesa quel video era è manovrato ad opera d'arte cioè durante la sigla vedevi che era inquadrato con la musica di sottofondo cattiva per farlo apparire un lupo un lupo rapace un imbroglione questa è manipolazione della visione di dare una visione sbagliata al mondo e noi come chiesa del corpo di Cristo noi non possiamo permettere questo dobbiamo stare attenti perché non mi è piaciuto il fatto che questa persona è rimasta nell'ombra chi l'ha accusata chi ha chiamato la Barbara D'Urso è rimasta nell'ombra mentre il pastore ci ha rimesso la faccia la chiesa ci ha rimesso la faccia quindi c'è un passo nella Bibbia che dice quando uno dice le sue ragioni subito si pensa che abbia ragione ma poi viene l'altro e lo mette alla prova questo mi fa comprendere spesso e volentieri che quando ascoltiamo un parere noi dovremmo dire ok ora vieni a confrontarti con chi stai accusando se le persone che dicono di amare Gesù rispettassero ciò che la Bibbia dice cioè quando hai un problema contro il tuo fratello vai e prendi da solo il tuo fratello se avrai chiarito avrai guadagnato il tuo fratello se non ti ascolta chiama i testimoni se non ti ascolta chiama la chiesa non ti ascolta ignoralo non dice di portarlo davanti ai pagani dice di ignorarlo e nonostante le accuse si sono ritrovate false questa conduttrice ha trovato tutti i modi per accusarlo e noi continuiamo a fare l'applauso continuiamo a screditare noi dobbiamo sostenerci guardate qua cosa dice la scrittura questo è il secondo passo che volevo leggere con voi primo corinzi 6 dice quando qualcuno di voi ha una lite con un altro ha il coraggio di chiamare in giudizio davanti agli ingiusti anziché davanti ai santi non sapete che i santi giudicheranno il mondo se dunque il mondo è giudicato da voi siete voi indegni di giudicare delle cose minime non sapete che giudicheremo gli angeli quanto più possiamo giudicare le cose di questa vita quando dunque avete da giudicare su cose di questa vita costituite come giudici persone nella chiesa che non sono tenute in alcuna considerazione dico questo per farvi vergogna è possibile che non vi sia tra di voi neppure una persona saggia capace di pronunciare un giudizio tra un fratello e l'altro ma il fratello processa il fratello e lo fa dinnanzi agli infedeli o i pagani certo è già in ogni modo un vostro difetto che abbatte fra voi dei processi perché non patite piuttosto un torto perché non patite piuttosto qualche danno invece siete voi che fate torto e danno e per giunta dei fratelli non sapete che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio qua Paolo sta dicendo gestitevi voi le situazioni interne ma non per coprire le malefatte attenzione io ho voluto fare questa diretta perché un conto se questo fratello questo pastore fosse stato sorpreso in adulterio in seduzione che magari seduceva le sorelle della chiesa queste sono cose abberranti che dobbiamo assolutamente denunciare e intervenire in tutti i modi ma qua si sta parlando che è accettato un dono e lo processiamo e facciamo i cavigli su come doveva comportarsi la mia massima solidarietà a questo pastore anzi noi dovremmo unirci in questo caso più che mai anche se quel pastore predica non tutto quello che io sono d'accordo cosa che non so perché non lo conosco così bene ma non me ne frega nulla perdonate l'espressione un po' colorita non mi interessa nulla noi dobbiamo assolutamente intervenire e trovare un'unità al di là delle denominazioni al di là delle dottrine perché non possiamo permettere ai pagani di farsi beffe o di farci apparire per qualcosa che non siamo ok quindi è assurdo riflettiamo su questo hanno portato dei falsi accusatori e spesso chi è il falso accusatore butta l'accusa e se ne va non ammette mai il confronto non ammette mai il confronto ecco perché prima di ascoltare le voci noi dobbiamo sempre fare la tara quando viene riportato un fatto per mettere in cattiva luce qualcuno fai sempre la tara la bibbia dice poi arriva l'altro e lo mette alla prova quando noi possiamo mettere alla prova cioè vedere un confronto possiamo farci un'idea ma non un confronto fatto dai media dove tagliano le scene e si permettano di rimproverare che lui ha accettato un dono ma saranno fatti suoi se lui accetta un dono potevano dire qualcosa se lui circuiva le persone a farsi dare o a estorcere o farlo passare per uno speculatore ma lui ha accettato un dono e ne ha tutto il diritto nel modo più assoluto ok quindi io credo che questo sia assolutamente importante e tutti i commenti scusate se rallento ma sto leggendo un attimo i commenti era una beffana chi l'ha accusata dice qualcuno quindi dobbiamo assolutamente intervenire in questa situazione e trovare la vera unità esatto come dice Mario chi non vuole i regali li mandi pure a me e mi accordo con questo perché al di là degli scherzi noi dobbiamo assolutamente essere uniti di una sola mente e prendere autorità su questa situazione quindi io volevo dare il mio contributo e sostegno di cuore a quello che ha fatto questo pastore ora poi possiamo discutere su tutto quello che vogliamo ho fatto bene non ho fatto male non doveva parlare tutti i cavigli che noi vogliamo ma attaccando lui grazie Mario quel passo dicevo proverbi 18-17 il primo per orare è la propria causa sembra che abbia ragione ma viene poi l'altro e lo esamina e lo mette alla prova è questo che noi dovremmo ritornare non attaccare perché il massimo che si dice quando in questa chiesa non c'è amore in questo c'è quell'altro e magari c'è gente che si spende semplicemente che ci sono fraintendimenti noi cosa facciamo? attacchiamo no 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 ed è inutile poi cercare di far capire queste cose alle persone che scrivono commenti a casaccio perché è una causa persa e snervante ma il mio invito è assolutamente all'unità in questo caso alla solidarietà ad unirsi al di là delle differenze la vera unità del corpo non è nell'essere tutti inquadrati tutti in un modo ma è l'unità nella diversità e in questo caso più che mai dobbiamo essere uniti perché attaccando lui è stato attaccato tutta l'immagine del corpo immaginatevi chi sempre chi state evangelizzando chi gli state parlando del Signore che lo volete invitare in chiesa vede un programma del genere montato d'opera d'arte manipolato dirà no dove mi vuoi portare ho visto scandaloso 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 perché subito si è pronti ad attaccare lo capite questo e noi non possiamo assolutamente permetterlo corpo di Cristo facciamoci uno rimaniamo uniti in questo e grazie Mario rimaniamo uniti perché abbiamo bisogno di alzare la nostra voce in ogni modo ok quindi ecco tutto ora io devo scappare e vi saluto e boh spero di avervi fatto riflettere su qualcosa di molto importante due passi mi venivano in mente appunto anzi tre quello di proverbi che mi ha aiutato a citarlo anche Mario mentre parlavo mi è venuto e i falsi accusatori di Gesù perché si accusano si si usano i media stanno usando falsi accusatori cioè che falsi testimoni che usano testimonianze false per screditare la Chiesa per screditare Cristo addirittura ci vogliono inculcare che che Dio non guarisce ma vi rendete conto vi rendete conto che inculcare il fatto che Dio non guarisce ci stanno stroncando ci vogliono intimidire la predicazione nonostante ogni Chiesa quante testimonianze centinaia di testimonianze può portare di casi di guarigione e loro vogliono stroncarci la testimonianza la barbaradusso cercava di intimidirlo che non può dire che lui guarisce che lui esercita doni di guarigione ma stiamo scherzando qua vogliono intimidire la predicazione portarla a mettere pace nel cuore ehi Gesù non è morto per rassenerarti il cuore Gesù è morto affinché tu potessi avere vita e vita in abbondanza e nella vita abbondanza c'è la vittoria dalla depressione la vittoria dalla malattia la vittoria dalla morte la vittoria dallo scoraggiamento la vittoria dai disturbi e Dio è vivo è vivo è vivo ed è vero come dice Luigi c'è tanta cattiveria nel corpo di Cristo e questo è quello che mi fa più male vedere la cattiveria vedere boom boom mettiamo versi a casaccio la gente vive il suo cristianesimo in solitudine e butta versi a casaccio tutti contro tutti io direi una persona se c'è così tanto male la chiesa mostra tu il meglio facci vedere tu come si fa la chiesa al posto di perdere tempo con queste cose con versetti a casaccio e ci sentiamo i giudici del mondo ma impariamo ad affrontare noi stessi le cose ok vi saluto grazie a quanti si sono connessi in questa diretta vi abbraccio e vi benedico ciao a tutti